Seconda puntata della missione Level Levorato a Valencia, qui torniamo a parlare di un altro marchio che ha il suo perché, anche se non l'hai prodotto tu, però lo vendi e ci metti le tue manine, che è Mission. Perché torniamo a parlare? Torniamo a parlare innanzitutto per questa cosa che vediamo troneggiare al centro dell'inquadratura, questa riedizione del 45esimo anniversario di un prodotto a suo tempo abbastanza mitico, le Mission 700. Ti lascio la parola. Allora innanzitutto ciao a tutti. Sì, il 45esimo di Mission, diciamo che come in altri casi questa rivisitazione non è proprio un prodotto della stessa taglia, perciò come adesso la nuova 500 è ben più grande della 500 di una volta, in questo caso la Mission 700, 40 anni fa, era un diffusore New Entry, Best Buy, cioè qualcosa che cominciavi con quella, prodotto che all'epoca costava 300 mila lire a coppia. E qui siamo su una cassa importante invece, che prende le fisionomie sui generis, ricorda il look, eccetera. Sì, la scritta, il bianco del frontale. Il bianco in un tasto, il twitter sotto. Esatto. Però facciamo, ora va a dire, le case book self, cioè da scaffale, da libreria, book self, normalmente hanno un reflex davanti, normalmente stanno ai piani alti e di solito vanno girate per tenere il twitter giù, se no ascolti come fossi sulla Fossa dei Leoni e l'orchestra impalchettata per aria. Di conseguenza loro già all'epoca l'avevano fatta girata col twitter basso, perciò messa sullo stand, così come chiama la scritta, la devi ascoltare a 5-6 metri, perché più vicino sei se la tieni sullo stand ha senso girarla. La cassa, come vedi, è speculare, come le scarpe, cioè la destra e la sinistra, lo vedi perché il twitter è dalla parte o dall'altra. E quello te la giochi a secondo di quanto larga è la base del triangolo stereofonico. È evidente che se è un po' larghetto i twitter vanno interni, se è proprio stretto è meglio metterli in esterno. Diciamo che appunto hanno rivisitato il prodotto ma l'hanno fatto a un livello di qualità elevata. Siccome dipendi sempre dal gruppo YAG, International Audio Group, lo stesso di Warfield, Luxman e altri marchi, c'è anche Mission, hanno prodotto appunto questo diffusore che delle due casse che presentano questo è quello più abbordabile, però siamo a 1.700 euro a coppia, poi altri 400 di stand. Perciò un prezzo, anche facendo le debite proporzioni di valuta e di svalutazione, eccetera, più alto di quello che costava l'originale all'epoca. Però l'originale all'epoca, per sentire i bassi, era consigliabile aggiungere un subwoofer, mentre questa qua suona da sola. Poi con l'upgrade che abbiamo fatto è cambiata, poi quello lo spiegherai anche nella tua prova d'ascolto personale. Sì, che anticipiamo subito in coda a questa tua chiacchierata. Perfetto, io adesso do la spiegazione e poi tu darai il parere di quello che hai sentito. In ogni caso siamo andati a un altro livello di qualità. Ecco, sia chiaro che in questo caso abbiamo rivisitato il crossover, ma l'abbiamo dovuto alleggerire, certamente con materiali di qualità, con cavi superbi e cose del genere, ma la struttura del crossover l'abbiamo dovuto alleggerire, perché c'era tanta roba in più che serviva non a sentire meglio, ma a proteggere gli altoparlanti. Torniamo sempre al solito discorso, non è mai stata chiesta una patente né per vendere e né per usare impianti stereo. Di conseguenza il costruttore, memore nei tempi passati di quanti altoparlanti sono morti per una errata gestione del sistema, mette in condizione gli altoparlanti di essere super protetti da usi scelerati. Tu quante volte hai visto il profano con l'equalizzatore in mano? E come lo musa? Con tutto a manetta, a quel livello lì non serve assolutamente l'equalizzatore, c'ha 0 dB e se devi fare più 6, anziché fare più 6, fai meno 3 da una parte più 3 da un'altra. Però prima di arrivare a capire questo, più di qualcuno ha distrutto tanti tanti twitter. In questo caso appunto la cassa era iper protetta, perciò potevi collegare anche potenze enormi, gli altoparlanti erano protetti, però suonavano diciamo imbavagliati, levate le briglie galoppano. Poi sentito appunto, questo qua è da collocare in via diciamo rapporto qualità prezzo eccetera, un livello, un'alternativa a due vie della Linton e poi ne hanno fatta un'altra più costosa che prenderemo in mano fra qualche mese, lì andiamo a un prezzo un po' più importante, lì cominciamo a giocarcela con l'Elysian 1, la due vie della gamma di prestigio di Warfield. Tornando qui stiamo praticamente tra Denton che è un due vie e Linton che è un tre vie, certamente che con la cura che ne abbiamo fatto è in grado di valorizzare impiantini di un certo livello, un buon amplificatore dai 40, 50 watt ai 100 watt per canale se la gioca bene. Chiaramente il Twitter fa un lavoro di rifinitura al woofer, il taglio a un certo livello, perciò gran parte dell'orchestra esce dal woofer, perciò non parliamo di bi ampli, qui è rigorosamente mono amp, perché per avere un senso il bi ampli devi avere almeno il tre vie. infatti, mentre qui nasce e resta con due morsetti, la Linton che abbiamo visto negli altri video nasce con due, ma dopo l'upgrade ne ha quattro. Anche in questo caso nella modifica sulla base, siccome sullo stand è solo appoggiata, questo vale anche per la Linton. Nell'upgrade è previsto di montare una bussola filettata al centro del basamento in maniera che poi con un bulloncino la tiri e tutta la risonanza spuria della cassa va scaricata effettivamente sullo stand, cosa che se glielo appoggi senza nessun tirante non ci riesce. Ecco, diciamo che l'upgrade non è costosissimo perché con 180 a cassa, 360 la coppia, si fa un salto di qualità enorme e soprattutto giustifica tutto quello che c'è intorno all'impianto, dai cavi di potenza, ai cavi di segnale, al tipo di fonorivelatore che hai sul piatto, cosa del genere. Questo eventualmente se serve lo stand, altrimenti va tranquillamente a libreria e avendo il resto davanti la imbuchi dove vuoi. È un prodotto che nella gamma Warfidel non c'era e perciò non crea concorrenze intestine tra un modello e l'altro, ha un suo segmento. Diciamo che anche quella linea di pensiero c'è chi ama il due vie, c'è chi non lo fa impazzire. C'è anche chi ama il mono via. Esattamente, diciamo comunque che il diffusore ha un senso sempre relativamente al contesto che lo vai a inserire. Perciò anche il mono via ha un senso se poi c'è, che ne so, una B300 che lo fa suonare. E' chiaro che non devi vedere un componente singolo per quello che, diciamo, l'hanno pensato, se non nel contesto globale dove vai a inserirlo. Chiaro. Tutto qui. Ebbè, ma qui torniamo all'architettura degli impianti che non possono essere fatti in base esclusivamente al catalogo, prezzi, categorie di prezzo. Tu metti, tu metti, allora, tu puoi prenderti la hit paree delle vendite e ti metti l'ampli più venduto, il diffusore più venduto, la testina più venduta, eccetera, la metti insieme. E fanno schifo. C'è l'impianto che proprio, altro che Dario Argento, è il brivido proprio, ce l'hai, sono le orecchie. Continuiamo la carellata. Certo. Allora, al momento stanno spingendo con un rapporto a questo prezzo incredibile l'amplificatore, l'avevamo già parlato in precedenza, e possiamo ribadirlo. Finché non lo portano più su degli attuali 6,90, disponibile sia silver che black, è un amplificatore decisamente incredibile. Ricordiamo le caratteristiche potenza. È un 45V per canale nominali, diciamo che non è distante da un LIC 130 e da un Audiolab 6.000, con la differenza che negli ultimi 2-3 anni quei due cugini li hanno dovuti portare su di prezzo. E questo invece costa grosso modo quello che costavano nel 2020 quelli. Perciò oggi come oggi, vai al mercato, cosa c'è di interessante da comprare? Lui. Perché suona meglio di roba che costa 1.000, 1.200, 1.300, ha una pulizia assoluta del disegno, c'è un signor DAC, c'è un buon fono, c'è il bluetooth, ha la presa a cuffia, gli manca praticamente niente. Ribadiamo anche questo importante, ha un DAC integrato. Ha un DAC integrato che lo puoi catalogare con dei nomi nobili da 300-350 euro. Comunque è sufficiente. Fa due conti, c'hai un fono che 200-250 li vale, c'hai un DAC che 300-350 li vale e l'amplificatore adesso ci rientra in quel prezzo. Assolutamente. E l'amplificatore da solo, anche se non avesse il fono e non avesse il DAC, li varrebbe tutti, perché altri inglesi, piccoletti e con bricola, che mi portano, che poi li modifico perché non hanno il pre-out che lui ha, il pre-out che lui ha e che è fondamentale per creare poi il bi-ampli, eccetera, e stati non ce l'hanno e glielo devo fare io, appunto a 700-800 carte fai fatica a trovare un apparecchio senza DAC, senza fono, solo linea e senza pre-out. Perciò lui è super concorrente, è proprio valido, valido. Poi sempre gamma mission, c'è questo DAC che sicuramente non serve essere degli imprenditori per capire che si chiamano mission ma chi fa questo non fa quello. Chiaro. Perché poi uno pensa ancora all'azienda del ventesimo secolo, nel ventunesimo secolo non funziona così. Ma addirittura già per fare questo ci sono varie parti di gente che non si parla, soprattutto costoppirla dal telecomando qua. Di cui ricordiamo l'altra volta. Che l'altra volta, appena arrivato, lo provavamo, ma questo non andava. In realtà smontato, sezionato, valutato, va tutto, funziona tutto, ma funziona quando cacchio vuole lui. E molto probabilmente per l'inclinazione delle lamine della batteria a pastiglia. Ok. Ma tanto per non andare via di testa, visto che l'apparecchio funziona benissimo. Ha un rapporto a questo prezzo eccellente perché con 500 euro hai praticamente di tutto e di più. Di tutto, e adesso ce lo racconterai. Perché pigliamo il cartoncino così non ci dimentichiamo nulla di nessuno. Allora, mostra, mostra, alza, 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 mostra bene. Si vede? Si, si vede. Allora, hai Bluetooth, conversione, eccetera. Hai il DSD, hai presa HDMI per creare un 2.1 su un sistema. Hai l'uscita preamplificata da volume. Quindi può funzionare anche da pre, idealmente. Si, tu puoi avere il vecchio amplificatore che hai ereditato con due cassettine e lui telecomanda, gestisce, porta la supporto digitale e avendo un ingresso analogico puoi ascoltarti il fono che il vecchio amplificatore ha dentro come pre o se hai un giradischi col pre-fono entri diretto. E poi, appunto, eccolo qui. Ovviamente si interfaccia con i computer, presa USB, driver. Allora, qui hai l'uscita di linea sbilanciata. Qui hai l'ingresso AUX analogico. Qui hai il coassiale, l'ottico. L'HDMI, la USB e questa è una presa USB A per verifiche laboratorie. Il sistema. E hai l'alimentazione esterna. Chiaro. Ogni funzione viene da un ampio display visualizzato, perché tu sai cosa si fa? Ha l'amplificatore per cuffia. Perfetto. Perciò, piena autonomia e autosufficienza. Solo che il problema, a quel punto, diciamo, la spina del fianco era questo. E allora, a quel punto, noi abbiamo valutato vari... Upgrade lavorato. Beh, certo. Primo, perché per le manine mie, quello lì è una roba impossibile. E qua i tasti li cucchi. Secondo, per la solidità e per la facilità. E poi per le pile stilo, anziché la pastiglia, che è molto più reperibile. Ma la precisione e la funzionalità. Questo non perde un colpo. Chiaro. Telecomando apprenditore, che noi carichiamo dei dati che servono. E chi compra l'apparecchio da noi, avrà in omaggio questo telecomando pronto, caricato, all'utilizzo. Benissimo. Perciò, problemi, pensieri, zero. Chiaro. Perciò, con 500 euro dell'apparecchio, avrai anche il telecomando, che te lo fa funzionare alla grande, senza problemi. Mi concedi una battuta? Possiamo fare pubblicità a un carrozziere ben noto dalle nostre parti? È un carrozziere, grande carrozziere della nostra zona, che ha un nome che adesso riveleremo, che faceva la pubblicità una volta, e c'era una lattina, una lattina simbolica, simbolizzare l'auto, e c'era la domanda sinistro, punto di domanda, lattina rotta, e sotto la risposta destro, punto esclamativo. Perché lui era destro di nome di fatto. Era destro di nome di fatto. E qui, mutatis mutandis, problema col telecomando, lavorato risolto. Esatto, esatto, sempre per il solito motivo che su un apparecchio mi metto nei panni di chi lo deve usare, e perciò riesco a capire, senza che me lo chiedano, cosa serve per farlo andare. Adesso non credo di aver preso il telecomando particolarmente difettoso. No, perché ne abbiamo provati vari. Esatto, perciò anche se il nostro amico importatore dice non è vero, io non ci credo, e comunque tanto per fugare ogni dubbio, rispondo in primis, gli do il telecomando che funziona, gratis, è compreso il terzo. Gratis, esatto. Dalle nostre parti si dice, sora il conto. Sora il conto. Esatto, e vai. Benissimo. Insomma, abbiamo questa combinazione, a questo punto, oltre a tutto quello che abbiamo detto nel passato. Sì, diciamo che appunto, questo è il diffusore più economico che hanno in produzione, questo è l'amplificatore dal rapporto qualità-prezzo eccellente, possono suonare insieme, sicuramente dopo l'upgrade lui sembra di doppia potenza, perché quei 3-4 decibel che gli ho fatto guadagnare il diffusore, hanno una realtà dinamica che lo valorizzano, però diciamo che secondo una logica, questo potrebbe avere un miglior utilizzo con diffusori anche più economici e questo potrebbe avere un miglior utilizzo con amplificatori anche più costosi. come vedremo fra un attimo nella mia descrizione. Sì, ma questo voglio sottolineare la differenza, che mentre il commerciante gli viene rifilato una botta monomarca, lui non riesce a capire cosa va mangiato prima e cosa va mangiato dopo e come gliel'hanno scaricato lo vende, ecco, qui non esiste, qui diciamo, anche se hanno tutti lo stesso logo, diciamo, vediamo di usare con una logica molto più profonda ogni singolo apparecchio perché lo si possa valorizzare al 100%. Benissimo, io direi che passiamo la parola a me, che racconto un po' degli ascolti. E certo, io te li ho presentati, poi tu puoi confermare o smentire quello che riesci a misurare. Benissimo, allora, magia del cinema. Ciao. Una certa soddisfazione nel rubare la scena ha lavorato per una volta all'interno di un suo video. Allora, vi racconto dei miei ascolti che ho fatto di questi apparecchi Mission, che sono degli ascolti magari brevi, ma molto ragionati, molto pensati e molto incrociati soprattutto. E partirei soprattutto dalle casse, dall'ascolto delle casse, in particolare dalla cassa naturale, Nature, con tutti i vincoli di cui Giorgio ha parlato molto bene prima, e la versione invece è rielaborata con le ormai notissime mitiche modifiche by Leverato. E non posso che confermare la prima cosa che subito si percepisce, e cioè questo aumento della sensibilità, ma proprio netto, evidente, parliamo di 2-3 dB, ovvero il raddoppio del volume sonoro, perché come sapete a passi di 3 dB il volume sonoro raddoppia. Quindi veramente importante, ma ovviamente non è solo questo il vantaggio che si deriva, si ottiene con questa modifica, ma anche la compensazione di quella cosa che ho notato subito all'ascolto della versione normale, diciamo così, della mission, cioè un certo buco nella risposta in frequenza, proprio nel punto di taglio fra il woofer e il tweeter. Sembra proprio che ci sia una strozzatura, e quindi una perdita di chiarezza, un po' di confusione. Bene, con la modifica questa viene assolutamente linearizzata e ricompare la mia tanto amata trasparenza sonora, linearità, facilità di emissione, che inevitabilmente si ripercuote sull'aumento appunto della sensibilità, della percezione di anche presenza del suono. Prima il suono, oltre che un po' confuso, è un po' arretrato, adesso viene spinto giustamente in avanti, ma in realtà non viene spinto in avanti, viene linearizzato con la conseguenza che risulta tutto più evidente. Spero che sia chiaro questo passaggio. Allora, e già qui abbiamo giustificato l'essenza e l'importanza di questa modifica by Levorato. L'altro aspetto è sul pilotaggio di questo diffusore, che è, come diceva Giorgio alla fine della sua recensione, della sua presentazione, certamente questo è un diffusore nobile, insomma, e il prezzo stesso non è un prezzo proprio alla portata di tutti, 1700 Euro, comincia a essere un prezzo importante e significativo. Ecco che questo diffusore pilotato dal pur onesto amplificatore Mission ovviamente suona, suona con la sua dignità, ma passando a pilotare questi diffusori con un sistema decisamente ammiraglio, decisamente di riferimento, come sono il DAC, il pre e il finale by Level, recentemente presentati, ecco che tutta l'importanza del costo di questo diffusore viene valorizzata e si capisce perché è un diffusore che costa 1700 Euro. Quali le caratteristiche? Beh, insomma, quelle tipiche del suono inglese un po' aggiornate, cioè un'ottima ricostruzione dell'immagine sonora, un'ottima profondità, della dinamica abbiamo detto e della risposta in basso che comunque guardando un woofer così non gigantesco, per non dire piccolino, uno non si aspetterebbe e invece, ancora una volta, magia, anche la risposta in basso, se correttamente pilotato, guadagna clamorosamente. Anche qui non ho fatto misure, quindi vado a percezione, ma la mia percezione della risposta a bassa frequenza, passando dall'integrato Mission al finale by Level, sembra quasi che scenda di più. In realtà semplicemente c'è maggior controllo, maggiore definizione, maggiore presenza nella gamma bassa prodotta che dà appunto questa percezione di un basso più autorevole e più importante. Quindi sicuramente, ancora una volta, questi 360€ di differenza per avere la modifica by Levorato hanno un senso compiuto e definitivo, anche perché, ripeto, spendere 1700€ per avere una cassa che gira, come dire, una Ferrari, una Porsche col freno a mano tirato, non ha senso, non ha veramente senso, a mio parere naturalmente, poi magari chiunque ha la propria idea, la propria percezione la pensa diversamente, però secondo me assolutamente non ha molto senso, anche, ripeto, alla luce del rapporto fra il costo della cassa e il costo della modifica, perfettamente integrato, perfettamente giustificato. L'altro oggetto di cui si parla e di vi voglio parlare è questo, questa specie di, lo prendo proprio per far capire e percepire anch'io le dimensioni, un oggettino piccolo, factotum, come si dice, nel senso che manca che faccia i caffè, poi fa anche quello, ed è un oggetto che addirittura, appunto, potete usare come predisservizio collegato, come si dice, o all'impiantino della camera dei bambini che avete da parte, o comprandovi, ad esempio, una cassettina amplificata, sapete che io sono un grande conoscitore del mondo delle casse amplificate di basso prezzo da destinare alla postazione computer, perché ecco, io lo vedo bene, questo oggetto, come centro di comando del suono della vostra postazione computer. Dicevo, è veramente completo, come ingressi, come uscite, come tutto. E il suono è onesto, io sono stato crudele e a un certo punto ho voluto confrontarlo sia con il DAC by Leverato, sia anche con il mio prestigioso, mitico, leggendario DAC supremo by North Star, e andando poi a pilotare, attraverso il pre della norma, i miei diffusori Neumann KH 420. Bene, inevitabilmente, mettendo a confronto un oggetto che costa 500€ con tutto quello che fa all inclusive, con un DAC come il Supremo che ne costa 3.500€ o anche come il DAC Level che ne costa 1.000€, ma poi parleremo anche di questo in un'altra sede, però, insomma, ripeto, ci sono tutte le proporzioni di prezzo. Inevitabilmente. Resta una macchina onesta, una macchina perfetta, ripeto, per pilotare la vostra postazione computer o per il vostro impianto entry level. Anche qui, partendo da un punto di partenza da cui poi si può salire, è comunque un suono onesto, un suono trasparente, ma che manca di quella plasticità, di quella raffinatezza dal punto di vista timbrico, che inevitabilmente macchine che costano dal doppio a 3-4 volte di più hanno e sarebbe veramente grave se non ce ne avessero. Però, ripeto, nella sua categoria di prezzo è certamente un best buy, senza alcun dubbio, ed è direttamente confrontabile a tante schede audio di origine professionale, di cui io vi ho parlato in passato, che costano attorno a quella cifra lì, o magari anche un po' meno, e quindi si inserisce perfettamente in questa linea di utilizzo e di fruizione in modo perfetto, e quindi sicuramente consigliato per questo tipo di utilizzo. Direi a questo punto che posso concludere qui la mia parte di ascolto e, come ha detto Giorgio prima, salute a tutti, ma siccome io sono presente in vivo, non posso non concludere con il mio classico That's All, folks. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione